Si terrà venerdì prossimo 17 giugno a Caltanissetta dalle 18.30 alla Casa delle Culture del Volontariato Letizia Colaiani in via Ziboli. L'evento Il Silenzio del Sudore, l'incontro in memoria di Adnanzi Dick assassinato perché aveva aiutato a denunciare i caporali sul territorio nisseno che sfruttavano braccianti. Così per il secondo anno consecutivo sarà il contrasto del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori in agricoltura al centro dell'incontro organizzato dal MOVI, Movimento di Volontariato Italiano, in partenariato con l'Auser e l'Associazione Il Circo Pace e Bene, con il sostegno finanziario del CESVOP. All'incontro parteciperanno autorevoli relatori tra cui il prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, Claudio Fava, ex presidente della Commissione di Inchiesta e Vigilanza sul Fenomeno della Mafia, Abdel Karim Annaki, redattore regionale del dossier statistico Immigrazione IDOS ed infine l'avvocato della famiglia Siddiq Salvatore Patri. Seguirà poi la visione dei reportaggi Il Silenzio del Sudore diretto da Elia Miciche, un evento condotto dal reporter Antonio Turco ed aperto all'intera cittadinanza.